Signore e signori, buongiorno! Siamo tornati qui sul canale di AlexMotoTravelers perché volevo parlarvi di un progetto per il 2023. Come qualcuno di voi ha già visto e mi avete già mandato delle mail, avevo fatto un post riguardante un viaggio in Colombia per aprile 2023. Avete capito bene ragazzi, viaggio organizzato per aprile 2023 e si va in Sud America, in Colombia. Questo viaggio non lo organizzo io nella sua totalità, io sono solo il referente italiano di un tour operator colombiano, chi mi segue da tempo anche su Instagram per esempio conosce il mio amico colombiano Orge che è una persona incredibile che ha un tour operator che lavora appunto nei viaggi avventura con sede a Bogotà e con una flotta di KTM a noleggio. Questo viaggio ho deciso di proporlo anche a chi mi segue, ai miei amici, a tanta altra gente, perché l'ho fatto io in primis nel 2019. Ad ottobre del 2019 sono stato in Colombia, dal mio amico Orge, siamo stati insieme io e lui 12 giorni a girare, io avevo un 1090R preso da lui in noleggio e abbiamo girato, abbiamo fatto esattamente il viaggio che andremo a ripercorrere ad aprile 2023, quello di cui vi sto parlando praticamente adesso. Chi mi conosce sa che di solito non faccio queste cose, mi piace girare in solitaria, mi piace andare in giro al massimo con un amico, ma credo che il viaggio in Colombia, organizzato soprattutto perché c'è dietro l'organizzazione di un tour operator serio, io non mi improvviserei mai di fare una cosa del genere, perché credo che ognuno debba fare il suo lavoro, e ci vuole della professionalità, soprattutto quando la gente paga, quindi io non mi sognerei mai di intraprendere una roba del genere, ma proprio a questo tavolo, è stato qua a Orge il mio amico colombiano a fine settembre, stavano parlando, loro sono venuti in Europa a fare un giro, sono stati qua anche sul lago di Como, e la sera parlando qua a tavola è uscita fuori l'idea di portare, di organizzare un gruppo di italiani per un viaggio in Colombia. Prima di tutto, io avendola già fatta questa esperienza, posso confermarvi che è veramente un viaggio avventura incredibile, soprattutto poi fatto con un tour operator, con una guida del posto, la guida sarà proprio il mio amico Orge, fatto con una persona del posto vi fa, vi dà la possibilità di vivere delle esperienze che viaggiando da soli difficilmente si possono vivere, delle situazioni, è molto diverso, io infatti ho un incredibile ricordo di quel viaggio che ho fatto con lui, perché mi è rimasto proprio nel cuore, mi sono innamorato della Colombia, lasciando perdere tutto quel discorso delle classiche cose che sentono nella Colombia, è un viaggio sicuro, ovviamente ci sono posti e posti come in tutte le parti del mondo, dove è meglio magari non andare, dove è meglio andare, ma andando con una persona del posto ovviamente si va in posti sicuri. Quindi parliamo un po' di questo viaggio, nel frattempo vedete un po' di immagini che scorrono del mio viaggio precedente, questa avventura si terrà circa dal 10 di aprile fino al 22, sono 11 giorni che si faranno in Colombia, quindi 11 giorni pieni, di cui faremo circa 1700 chilometri su per giù, è un viaggio avventura, quindi è un viaggio che si svilupperà su asfalto ma anche in fuoristrada, attenzione, un fuoristrada semplice, uno sterrato, uno sterrato che può essere affrontato da chiunque. Ovviamente non andiamo a fare enduro, andare a fare cose hard perché stiamo andando dall'altra parte del mondo e siamo in giro in moto, quindi la sicurezza è la prima cosa, non bisogna farsi male, non si va a correre, non si va a fare gli scemi, si va a vivere un'esperienza in un posto lontano da casa. Quindi quello che ci tengo a dire è appunto non si va a fare gli asini, ma si va a vivere un'esperienza nuova. Quindi se mi scrivete una mail a colombianmoto.com, vi mando tutte quelle che sono le info dettagliate riguardo a questo viaggio, ovviamente comprensivi dei prezzi. Abbiamo pensato per questo viaggio di offrire una formula all, all inclusive. Perché due volte all? Perché adesso vi spiego, andiamo per step. KTM 890 Adventure a noleggio, quindi non moto di bassa cilindrata o moto vecchia, ma moto nuove. E ragazzi KTM 890, quindi una moto che ha al massimo un anno e mezzo. Poi, vitto e alloggio, non dormiremo in tenda, non dormiremo in campeggi, ma dormiremo sempre in albergo, se non in due occasioni dove dormiremo nella foresta pluviale. Un'esperienza incredibile, degna del più fantastico 5 stelle che voi potete trovare nel mondo, che si dormirà nella foresta. Una cosa incredibile. L'ho già vissuto, quindi ve lo posso garantire. Quindi, KTM 890 a noleggio, vitto e alloggio. Abbiamo parlato dell'alloggio, il vitto consiste nel tre pasti giornalieri inclusi nella tariffa, inclusi nella quota di partecipazione, compresi anche gli snack e le bevande per tutta la durata della nostra permanenza in Colombia. Questo vuol dire che se ci fermiamo alle 10 di mattina o alle 4 di pomeriggio a prendere degli snack o a bere un Gatorade, pagherà tutto il Tour Operator. In Colombia voi non tirerete più fuori un euro, non dovrete preoccuparvi di nulla, assolutamente. Questo perché? Perché nella nostra formula è compresa anche la benzina. Ragazzi, la benzina non lo fa nessuno, ma quando noi andremo al distributore, per tutta la durata del nostro viaggio in Colombia, la benzina verrà pagata dal Tour Operator. Quindi è una cosa veramente molto molto importante. Mimicolga ci tiene a fare le cose fatte bene, che i clienti siano super soddisfatti e quindi questo è il suo modo di lavorare. Oltre a queste cose che vi ho appena detto, saranno previste nella quota anche ovviamente il pick-up dall'aeroporto all'arrivo in Colombia e alla partenza per il ritorno in Italia. Saranno previste anche delle visite guidate sia a Bogotà ma anche a Medellin, che sarà una tappa molto suggestiva, dove staremo un giorno per visitare un po' Medellin. e andremo alla Pedra del Peñol de Guatapé, andremo a vedere una classica assienda dove si produce il caffè. Quindi diciamo una formula in cui il cliente non dovrà preoccuparsi più di nulla, c'è solo fuori il volo. Quindi vi ricordo, se volete delle informazioni, colombiemoto.gmail.com per ricevere tutti i dettagli e tutte le informazioni per quanto riguarda questo viaggio che si terrà a metà aprile, vi ricordo, quindi dal 10 al 22 di aprile. Cosa è necessario? Allora, è necessario... non è necessario molto. È necessario uno spirito di adattamento, nel senso che troveremo delle condizioni climatiche, essendo solo la linea equatoriale, troveremo delle condizioni climatiche molto differenti. Andremo dai 4.000 metri, dove sarà abbastanza fresco, ma andremo magari anche a 40-45 gradi. Andremo anche con un'umidità molto elevata, quindi serve un minimo di spirito di adattamento. Non bisogna per forza essere dei manici, io sono un brocco, qualsiasi da andare in moto. Lo sterrato sarà semplice, ci sarà anche una buona parte di asfalto, però ovviamente bisogna avere anche un minimo di resistenza per quanto riguarda la guida in moto, perché comunque sono diversi centinaia di chilometri al giorno. La moto appunto è il fulcro, è il mezzo che ci porterà a vivere questa esperienza. Ovviamente ci servirà un abbigliamento tra strati, un abbigliamento che ci permette di stare sia al caldo sfoderandolo, ma anche di coprirci se magari ci sarà un po' più di fresco. Ovviamente un'antipioggia ed obbligo, e poi le classiche dotazioni, casco, guanti, eccetera, eccetera, per essere pronti a viaggiare. Quando sono stato io in Colombia, mi sono portato una classica borsa da 35 litri waterproof da legare sulla sella della mia moto, dove mi sono portato tutto l'occorrente per il viaggio. Quindi vi ricordo, se siete interessati a questo viaggio, colombiamoto.gmail.com Vi risponderò direttamente io, e verrò anche io in viaggio con voi. Ovviamente racconteremo il nostro viaggio anche qui su YouTube, e tutte le persone a casa ci potranno seguire. Quindi è una bella esperienza, ma ricordatevi che abbiamo pochissimi posti, perché la nostra intenzione non è quella di fare grandi gruppi, non vogliamo gruppi con 20-25 moto, ma chiuderemo l'iscrizione con meno di 10 moto. Quindi mi raccomando, se siete interessati, scrivetemi. Da Alex è tutto, mi raccomando, se avete bisogno di altre informazioni, iscrivetemi, e ci vediamo al prossimo video. Grazie.